Fabio, domani debutto casalingo con l'obiettivo volley, si parte dal bel successo di sette giorni fa, che partita ti aspetti? Ci aspettiamo una partita combattuta. La squadra che affrontiamo è una squadra molto rinnovata, è una squadra composta da tanti giocatori esperti che da anni navigano tra questa categoria e le categorie superiori e quindi ci aspettiamo una partita abbastanza dura. In settimana hai provato anche delle soluzioni alternative, domani al palazzetto vedremo qualcosa? Sì, forse domani potrà essere l'occasione buona per vedere i nuovi esperimenti che stiamo cercando di effettuare sperando che la situazione sia il più congeniale possibile per noi e che quindi ci possa permettere di attuare quelle che potranno essere poi in futuro le nostre soluzioni. Senti, tanti giovani, l'approccio con la Serie C insomma è andato bene con la vittoria esterna a Fiumicino, tante entusiasmo insomma per una stagione da vivere intensamente. Sì, sabato la partita è andata bene, devo dire che l'entusiasmo anche alla fine della partita non era dei più eccelsi perché comunque abbiamo faticato tanto, però devo dire che adesso i ragazzi stanno prendendo fiducia di loro stessi e che ci auguriamo tutti che tutto proceda per il meglio.